Una decisione organizzativa che potrebbe mandare a monte la grande opportunità che i fondi del PNRR offrono alla Sardegna ad accusare la Regione e la consigliera regionale dei progressisti Maria Laura Orru, che adesso minaccia un'interrogazione. Motivo del dissenso, le scelte portate avanti fino ad ora dalla Giunta Solinas riguarda i soggetti che dovranno gestire le procedure per l'affidamento dei progetti finanziati dal PNRR. Secondo quanto stabilito a livello nazionale, è previsto che queste debbano essere fatte da soggetti aggregatori, quindi pochi soggetti qualificati e autorizzati a farlo, a livello regionale, città metropolitane e enti locali, con una razionalizzazione della spesa e con vantaggi strategici e organizzativi. A questo proposito, la scelta della Regione è stata quella di affidare l'intero pacchetto delle procedure alla centrale regionale di committenza. Nessuna previsione di un tetto al di sotto del quale possano ad esempio intervenire gli enti locali, di fatto tagliandoli fuori, secondo la consigliera Orru, dalla possibilità di spendere in maniera rapida e efficace i fondi nei territori che amministrano. Altra criticità, secondo Orru, è il fatto che la centralizzazione di tutte le pratiche porterà nel breve periodo a un rapido collasso della centrale regionale di committenza, il cui personale non è numericamente adeguato a gestire una tale mole di lavoro per conto di tutti i comuni della Sardegna. Da qui l'imminente interrogazione per chiedere chiarezza è che vengano stabilite delle soglie al di sotto delle quali i fondi del PNRR siano gestiti dai comuni. Non è opportuno, conclude la consigliera Orru, che non si colgano con tempestività le opportunità che si aprono per lo sviluppo del nostro territorio solo per la mancanza di una norma che è prima di tutto di buon senso.